Mario Reinaldi, direttore del Museo Civico Fidenate di Castel di Sangro, che negli ultimi tempi ha ricevuto dei bei riconoscimenti. Sì, continua l'opera di valorizzazione del Museo Civico Fidenate, le iniziative vanno avanti. Abbiamo recuperato qualche settimana fa, attraverso dei fondi che abbiamo acquisito con gli eventi estivi, degli importanti reperti, circa 24 cassette, provenienti dalla Domus Romana di Castel di Sangro del I secolo a.C. nei depositi del Ministero della Cultura di Sulmona, alla sovraindendenza delle Belle Arti. Inoltre abbiamo vinto il bando sulla rifunzionalizzazione e sul finanziamento dei piccoli musei, e quindi non è una grande cifra, però siamo soddisfatti perché ci permette di acquistare nuove dispositivi e nuove teche per l'espansione delle sale che abbiamo in previsione per la prossima estate. Per la prossima estate cosa bolla in pentola? Per la prossima estate avremo sicuramente un programma molto variegato, con gli eventi culturali che la faranno da padrona e delle serate musicali, di musica classica principalmente, estremamente interessanti, con delle gustazioni enogastronomiche perché da qualche tempo abbiamo avviato questo progetto di abbinamento alla cultura, alla storia e all'arte della enogastronomia.